Buonasera Mariong, ma cosa è successo a Sdrumox? Niente... Daniele! Dani! Puoi farti vedere così sanno che non ti è successo niente, per favore? Non voglio. Ok, allora per favore fai vedere se non ti è semplicemente la tua mano, vieni. Non è la mano il problema. Cosa succede? No, non voglio parlarne. Dani, fammi una clip anche soltanto audio dove dici che non ti è successo niente. Si vede? Sì. Ciao ragazzi, tutto bene qua? Non è successo nulla? Sono in famiglia qua perché Mario e Giuseppe sono come fratelli per me. E per favore non vi preoccupate. Perché la cosa che ti hanno picchiato era uno scherzo? È tutto ok, quasi sta una meraviglia. Era uno scherzo? Era uno scherzo e mi mancate. Eri semplicemente stanco e presto ti fari vedere. Perfetto, adesso arrivo. Arriva nel senso fra un paio di giorni. Grazie Daniele. Ciao ragazzi. Clippate questa cosa dicendo salute sdrumox. Punto esclamativo salute sdrumox per favore. Sembra forzato perché è uno scassaminchia. Ha fatto il simbolo della violenza con il pollice tra le dita? Cosa? Ha fatto il gesto... Daniele? Hai fatto il gesto della mano di voi in cerca del nudo? No, non mi fare nulla. 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 Aiuto! Non ho fatto nulla. Vai a dire che va tutto bene. Vai. Va tutto bene. Vai a dire normalmente che va tutto bene. Va tutto bene ragazzi. Tutto ok? Non vi preoccupate per me. Non ho fatto niente, non ho fatto niente Vado a cucinare per voi Cosa stai facendo? No, no, quello che c'è, quello che c'è Ci sono tante cose Dai, ti prego Cosa stai facendo? Ti prego, passo Vabbè, vada a bere No, 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 dai, ti prego Ti prego Ti prego, no Eh, vado via, vado via Stai mischiando il sugo alle noci con colorini dei funghi? Sì Ma che porca di c***o hai nel cervello? Non mischiare i tuoi succhi Scusa Non mischiare funghi e noci Guardate se dobbiamo spiegare i tuoi succhi per fare un sugo di merda Diciamolo per democrazia, io lo dobbiamo inserire Ragazzi, no Ragazzi, no Ragazzi, no Ragazzi, no Non ne posso più Non ne posso più Qualcuno chiami i servizi obbligatori Qualcuno li chiama Basta Il sugo ai funghi Con il sugo alle noci, porco Discarica fuori e discarica dentro Non ho mutato? Ops Tecna blips 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 Tecna blips